La sostenibilità in Fresco Senso è diventata predominante nell'ambito dello sviluppo del PEC sicuramente e anche nell'ambito della produzione e quindi Fresco Senso già da alcuni anni ha scelto di interprendere una modifica, un'innovazione nel PEC che è appunto quello della sostenibilità utilizzando dei bicchieri di carta. La grande istituzione ha risposto, ha risposto bene, positivamente, quindi il prodotto è arrivato a scaffale, che era il nostro obiettivo principale chiaramente, era quello di proporsi. Hanno risposto anche tramite social i clienti, i clienti diretti, ovviamente noi abbiamo anche evidenziato questo cambiamento, questo spostare l'asse sulla sostenibilità sul mondo social, quindi vari, Esmu, Instagram, e hanno risposto positivamente, cosa che all'inizio erano alcuni clienti un po' duri. Proseguiamo su questa strada, anzi vogliamo anche aumentarla su questa offerta in bicchiere di carta. Chiaramente la carta in questo caso la fa da padrone, è vista come il materiale principe della riciclabilità e sostenibilità e quindi noi ci abbiamo perseguito su questo e vogliamo perseguire anche in futuro allargando formati e allargando anche tipologie di prodotto dedicato a questo pack a formato di carta. Siamo sempre stati visti come innovatori sia come proposta di prodotto sia anche appunto come proposta di pack. Siamo stati i primi a portare il bicchiere di carta nella frutta di quarta gamma, poi a seguire ci sono stati anche altri. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!